Al piano nobile di Palazzo Lascaris è esposto fino al 6 gennaio il presepe piemontese di Guido Moro, un classico presepe popolare dove a fianco dei personaggi della natività compaiono sia i pastori che i popolani nei loro costumi tradizionali. In questo presepe piemontese, oltre al recupero della figura di Gelindo, vengono riproposti sia gli ambienti tipici della montagna che i personaggi che la abitano. Non solo pastori ma anche margari, falegnami, boscaioli, lavandaie e chine sul fiume ma anche i pasticceri di Alba che confezionano il torrone.